Ciao a tutti, sono Silvia, bentornati sul mio canale e oggi apriamo insieme la beauty box di dicembre di Look Fantastic. Scusate la mese, sono appena tornata dal lavoro, sono di fretta, sono andata a fare la spesa e adesso devo uscire a cena. A casa di mia cugina, grazie a Dio, non devo uscire in questo stato. In ogni caso ho deciso che sono un po' in ritardo con lo spacchettamento di tutti i pacchi che sono arrivati e non riesco a stare dietro a tutti i video, per cui ho deciso di fare una nuova serie che chiamerò I Corti e sono quei video che girerò velocemente in camera, col cellulare. Allora, quindi, ecco qua, per il primo, no, non è il primo di questi giorni, noterete che quelli che sto per pubblicare sono tutti così. Quindi, i video, i corti, la beauty box di Look Fantastic del mese di dicembre. La richiudo perché è la seconda volta che giro questo video non avevo lanciato il rec. Benissimo. Allora, la scatola di dicembre è così, questo bellissimo colore rosso. Proprio bella. E niente, adesso andiamo a vedere com'è composta. Quindi, questa è la nostra beauty box col bordino oro, rossa, bellissima. Che, finalmente, questo mese mi hanno messo la brochure, perché non sempre mi è arrivata con la brochure. Leggiamo il messaggio di questo mese, quindi, che è dedicato all'essere luminoso. Quindi, brilla durante questa stagione festiva e ti auguriamo un felice Natale. Con amore, il team di beauty box, bellissimo. Allora, adesso, per non scoderare, non apro niente. Mi spiace di non avere più l'effetto sorpresa, perché quando io ho aperto e ho visto questo, ho lanciato un wow enorme. Perché era un po' che ne volevo comprare una, però poi non lo so, insomma, compro, ho bisogno di così tante cose. Se bisogno, voglio, in genere, compro così tante cose che poi queste cose così non le prendo, ma non la trovo a un prezzo che per me è accettabile. Quindi, sono strafelice di averla trovata tutta sberlucicosa a oro. E nel beauty box, mamma mia, forse sono l'unica felice per una cavata così, ma fa niente. Io sono proprio felice. Allora, andiamo oltre a... Non so se questo è il prodotto spoiler, però è il prodotto che a me interessa, gran lunga. Quindi, Elemis Pro Collagene Energizing Marine Cleanser. Quindi, un gel Netoian, quindi un gel detergente per la pulizia del viso. Va bene? Ci piace, adesso non mi ricordo se già ce l'ho o non... Già l'avevo trovato, comunque a noi ci piace lo stesso. E non ho più bisogno di cleanser per una vita. Credo appunto che ad aprile, a marzo, insomma, scadrà questo buonamento. Non lo rifaccio più perché devo finire un po' di prodotti. Poi, andiamo... Starskin, olè! Starskin VIP, giusto perché mi mancava qualche maschera. E questa è una maschera per gli occhi rivitalizzante e illuminante. Benissimo, bene, due peccini, perfetto. Poi, udite, udite! Che cos'è? Che cos'è? Questa è una cosa molto strana. È una specie di rasoio. Per le sopracciglia. Cioè, vabbè, non lo so, l'adoro mio padre che lui ogni tanto si taglia i capelli dietro la testa da solo e così si lima i capelli sul collo in eccesso. Ma sì, io non uso queste cose, che roba è, vabbè, niente. Poi, perché vogliamo rubare il lavoro alle estetiste? Ma non ci pensiamo neanche. Cos'è questo? È un illuminante in matita della Spotlight. Sì, vediamo un po'. Ah, mi piace molto. Questo è per il sotto delle sopracciglia, deduco. Sicuramente lo userò così, più che altro. Sesto prodotto è questo. della Lottie London. È un blush. Un blush della Lottie London. Un po' aranciato per i miei gusti, però, appunto perché non è nei miei gusti, non ce l'ho. Quindi, benissimo, quindi ci manca. Bene, perfetto. Allora, questo è il bottino. Ne abbiamo il nostro poi libricino, che spoilerà un pochino le cose. E quindi mi sa che io, al posto del pennello, ho ricevuto il rasoio. Ma che cacchio me ne faccio io di un rasoio? Che per me non esiste proprio usare dei rasoi in faccia. Io voglio il pennello. E non era neanche previsto. Non era neanche previsto. Quindi deduco che faccio subito il... Come gli è saltato in mente? Faccio subito il reclamo. Io voglio il pennello. Non era previsto un rasoio. Mi dismiace. A volte date la doppia scelta. In questo caso la doppia scelta non è prevista. E per me non esiste che io manco di un pennello e mi danno quella schifezzina lì. Quindi, assolutamente, la prima cosa che faccio oggi è il reclamo. Va bene, ecco. Reclamo, faccio la foto, non ho più intenzione di leggere neanche il giornale. E andiamo a vedere subito. Deep Sleep Pillow Spray. Lo spoiler del mese prossimo. Benissimo, questo sarò molto felice. Bene, bene, bene. Per quanto riguarda il video, oggi è tutto. Vi terrò aggiornati su come si mette con Look Fantastic. E adesso vado a leggere subito nel mio gruppo su Telegram, nel gruppo a cui partecipo su Telegram, cosa è arrivato alle altre ragazze, per capire se sono l'unica a cui non ho mandato una specie di rasoio schifoso. Ma far cos'è? Ma c'è, stiamo scherzando. Va bene, vi tengo aggiornati. Grazie per essere stati qui. Il video voglio che sia il più rapido possibile, in dolore, così stasera forse risco di tarne due o tre. Grazie mille per il sostegno che mi date. Sono strafelice, mi piace un sacco scrivermi con voi. Quindi continuate a scrivermi, scrivetemi sempre di più. Grazie a tutti. Spero di avervi fatto passare un momento un po' spiazierato. Un grosso bacione. La silvia.